Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuovissima puntata della Zercocraft 2 con la Sky Factory 2 Bene, ho fatto alcune piccole modifiche, ho liberato un po' questo spazio da tutto quello che c'era Ho aumentato gli ME controller fino a quanto mi bastava la Sky Block Si, perché questo qui si fa con la Sky Block Che si fa molto easy, vi faccio vedere molto con i bug Perché tanto comunque me ne serviranno, perché non ho intenzione di fermarmi a ciò Si fa, prendendo la lava Non so come automatizzare, se si potrebbe automatizzare anche questo Bene, qui la lava è finita, perché giustamente non c'è più L'import che porta qui Ah no, si c'è qua, no? Non va così Gacchio Non ho lava Non posso farvi vedere Non ho lava Stiamo qui dentro, non ci va più Bene Ok, un po' di lava ce l'abbiamo Almeno così riesco a farvi vedere Allora Si prende la lava Si riempie uno Stone Barrel Così di lava Oh, non andare dentro Così Poi si prende Della Sky Ehm Cosa qui? Sky Stone Dust Se ce lo droppa Con l'impiantino lì sotto Si butta dentro Pam E ci dà I nostri Sky Stone Che poi cotti Vengono Diventano Degli Sky Stone Block Che poi ci serviranno Poi il crafting Del M Controller Un'altra novità Un'altra novità Ieri Infinity è stato tutto il pomeriggio Per poterci craftare Questa splendida armatura Questa splendida armatura Che Se riesco a farvi vedere Ehm Si fa con l'essenza Che danno i mob E poi Tramite quell'essenza Si coltivano Dei fiori Cioè dire Non so se voi La conoscete già Da qui Cacchio I crop Si coltivano i crop E si deve fare Un macello Tremendo Non so se ve la riesco A farvi vedere No Se riesco a farvela vedere Vedete Tipo Per fare questo C'è bisogno di questo Per fare questo C'è bisogno di tutto questo macello Per fare Un macello Questo laccio Arrivato qui dal laccio L'accio si fa con Il micio essence Quello che danni mob Insieme a questo Waking fusion stone Come si fa questo Waking fusion stone Il diamante Con tutto il micio Attorno E' un macello Comunque una combinazione Di cose Però adesso Abbiamo la polverina Viola Che ci permette Anche di volare Ecco Sembra che Sto in creative Ma non è così E tutto ciò Mi ha permesso Anche di sistemare Un po' qui giù Vi ricordate Ah qui ho aggiunto Un altro M drive Per chi poi L'IM controller Lo fa tutto in cerchio Così Perché fa figo Vedo scendere giù Tadam Allora Qui vabbè Aumenteranno Questi M controller Per adesso Riuscite a fare Così Ho fatto Tutto Dei cavetti Staccati Tramite Come si chiamano Questi qua I I anchor Che servono Per non far collegare I cavi Dell'ME E ho collegato Tutto l'impianto Qui sotto Tutto collegato Tutto online E in più Ho fatto anche Una piccola modifica Qui ho messo Che si rifornisce Automaticamente Di hammer Perché infatti Ero rimasto In summer E non stavo Producendo Più niente E in più Ho fatto Un collegamento Diretto Se riesco A passare Cacchio Diretto Alla farm Di alberi Vedete Il cavo Va dritto Lì E poi arriva Fin qui Per consumare Meno cavi Ed è collegato Poi Qui Vabbè Qua abbiamo Un big progetto Da fare Qui Al fianco Da quest'altra Mob farm Ah Un'altra cosa La mob farm Abbiamo messo Un grinder Perché poi ci servirà La mob essence Per fare Spawn di mob Perché abbiamo Carenza di lana Non possiamo andare Ogni due e tre A mano A prendere la lana Così per fare I dance cable Quindi Il prossimo Il prossimo video Sarà Una Bella Una bella farm Di Pecore Sì Iniziamo con le pecore E poi con un altro Io adesso ho sistemato Un po' tutto Ho fatto anche Parecchi autocraft Stavattino ho perso Un sacco di tempo Tutto off camera Vedete Ho fatto L'autocraft Del 64k Eccolo qui Infatti L'ho messo Anche qui Qui ho messo Il 16k E qui Ho messo Il 64k Adesso L'unica cosa Che ci manca Sostanzialmente A parte anche Una farm Di carote Che ci serve Carota Voglio dire Di cane dal zucchero Che ci serve Voglio controllare Un attimo Perché la farm Di patate Mi sa che Si è bloccata A causa Di qualcosa Perché ho queste uova Non lo so Non va Non va più Come dovrebbe Questo non Non so Perché Fammi vedere Qui Questo ce l'hai L'upgrade Lo slarge Te lo sto buttando Qui sotto E La cesta Ce l'hai dietro Per Prendere tutto Non ne ho idea E' Insomma Andato in conflitto Qualcosa Perché non vai Adesso le patate Le ho quasi consumate Perché Io ho messo da parte Una scorta di patate Qui Magari Sai che facciamo Sai che vi dico Facciamo tutto Togliamo tutti questi Ender Io Che rompono Le Vabbè Però è più così Più compatto Lo metto dopo L'ME Quasi quasi Magari solo Qui dietro Mi portavo Dei cavi dell'ME Qui E magari Da qui Mi prendevo Quello che mi serviva Io ho dei filtri No Qui sopra Fai che ho messo Dei filtri Non è che questo filtro qua Che dà problemi Lui non rileva Allora io lo tolgo Questo Ok No ma funzionava 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 Perché io Mettendo le patate Lì sopra Arrivavano qui giù E dall'ME Che non arrivano più Perché Mi fai questo Allora Che vi dico Faccio una cosa Tolgo questa Cesta E la rimetto Ok Come se le patate Crescono molto Ma molto lentamente Qua non arriva più Acqua Non mi dire Che è questo Perché non arriva più Acqua Ci manca Il collegamento Qua Dell'acqua Fluid Conduit Vediamo se ne ho altri Ok Allora Vediamo Vediamo un po' Fluid Conduit Fluid Non ne ho Vabbè Poi lo sistemerò In questo episodio Voglio fare Un bell'autocraft Del 4KM Fluid Storage Si Iniziamo a storaggiare Anche i fluidi Allora Facciamo così Che cosa Che adesso Se ne manca Mancano questi Giustamente Li dobbiamo Mettere nell'autocraft Facciamo così Ho sbagliato Questo Lo mettiamo In coda Qua Per non confonderli Con questi Che sono Sembrano simili O sono simili Encode Patter 4000 Quattro labis Quattro labis Quattro burro No Sono diversi Si Sono diversi Ok Mi è venuto un flash Mi ho detto Che sono uguali Quindi Quindi adesso Quindi adesso ne abbiamo Due Infatti Questo è un KM Fluid Storage Questo è un KM Storage Component Allora Ce ne servono Tre di questi E li mettiamo Ad autocraftare Vai Start Vediamo Giù Si è andato Il processo Ma ce l'ha fatto Oddio Aveva già tutto Bene Ottimo Allora Facciamo adesso L'autocraft Quello finale Dove è il Quattro K Così Perché adesso Noi abbiamo Questi qua Pam Ce l'abbiamo Encode Vai Quindi Lo metto In coda Allora Questo Così E Questo è il Quattro K Il Sedici K Non c'è Sedici K Fluid Storage Così andiamo Direttamente Al sedici Eccolo qui Come si fa Uh Certus Quastank Mamma mia Allora Questo qui Lo possiamo fare Noi dobbiamo fare Tre di questi Quattro K Allora Allori Quattro K Quattro K Fluid Che abbiamo appena Messo in coda Eccolo qui Ce ne servono Tre Di questi Start E poi E poi Ci serve Un Engineering Processor Che abbiamo Vediamo Se non sbaglio Sì perché Non ho messo a craftare Cinque prima Che servono sempre Questi qua Ok Vediamo Sta craftando Andiamo giù Scendi giù Scendi giù Shift Shift Più a destra Shift Più avanti Shift Oh cacchio Vai Ok Sta Per cuocere Logic Processor Infatti E Questa è una cosa Che vorrei migliorare Mettendo un'altra Di questa Alloy smelter Quella che avevo sopra Magari la mettiamo Qua A fianco Poi ci portiamo L'energia da dietro Sempre E ci colleghiamo Il tutto Così almeno abbiamo Due Alloy furnace Sarà molto più veloce Il processo Allora Credo che ha finito Di craftarli Vediamo un po' Se ce lo da Sì Ok Abbiamo anche questo In coda Ma ci sbaglio Sembra Devo invertire I Terminal Così non mi sbaglio più Poi 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 Cosa ci serve Più Questi qua Mettiamo Encode Vai Tanto il Quartus class Già lo sa fare L'abbiamo insegnato prima Allora Dov'è Eccolo qui Il pattern Lo mettiamo sempre qui E poi E dobbiamo fare uno Però Sì Perché sennò Non ci da La recipe Allora Uno Next Start Vai Ok E adesso 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 Questo finale Abbiamo finito Ci manca Cosa ci manca Il Fluix Dust L'abbiamo Imparato Sì Ok Ce ne servono Tre di questi Next Start E Cosa ci serve Pure questo qui 16k Che non l'abbiamo Craftato più L'abbiamo dato Solo a Recipe 16k Fluid Questo è giusto 16k Fluid Ok L'abbiamo tutto Pronto per l'autocraft Bam Andiamo direttamente al 16k Fluid Storage Ok L'abbiamo Imparato E ce lo mettiamo qui 16k Mentre il 64k Sempre fluid Giustamente si fa Con questo qui Al centro Che ha bisogno Di 316k Ce la facciamo Io penso di sì Abbiamo i materiali Tanto stiamo Stiamo riempiendo Di materiali Allora Abbiamo detto Abbiamo detto Abbiamo detto 3 di 16k 3 di questi Ce ne servono Grazie Ce la fai? No Non abbiamo Il Purcher To squartz Crystal Ce ne mancano 103 Vabbè Accontentiamoci Del Del 64k Invece Cioè del 16k Almeno abbiamo Un piccolo Fluid Eccolo qua No questo è Storage Shell Attenzione Attenzione Non facciamo errori Io voglio Questo Tanto abbiamo Già craftato tutto Ce lo deve fare Molto easy Allora Quindi 16k Fluid E adesso Possiamo importare Nell'ME Anche i fluidi Pam Questo Qui Questo drive Lo useremo Solo Solo E esclusivamente Io lo metto qui Per i fluidi Come fare per importare I fluidi Nell'ME Sempre tramite cavo Però servono Dei Fluid Import Servono Gli export Ci sono gli export E gli import Import bus Storage bus Non ci interessa Allora import bus Che importano Nell'ME Molto easy Da craftare Facciamo Facciamo l'autocraft Anche di questo Eh si Tanto se ci serviranno Allora Si Questo qui Che cos'è Questo è Export Noi ci Adesso facciamo l'import Pam Cosa ci manca Dove sta Ah ok Ci manca Questo al centro Ci manca tutto Bene Questi qui Si Li possiamo Craftare Li possiamo Craftare Allora A noi Quello lì Per l'import Ci serve L'annihilation Core Che cos'è No Questo è il Formation Core Annihilation Core 5 La facciamo Si Start Vai Mentre questo Il formation Core Serve per l'export Ne facciamo altri 5 Se ce la fa la cpu Non ce la fa la cpu Perché sta lavorando Già il primo Dovremmo fare magari Una stanza per le cpu Perché se sta lavorando Un craft Non riesce a lavorare Un altro craft Quindi se li mettiamo Separati E' probabile C'è Molto C'è no Probabile Sicuramente Con una cpu Craft Dei materiali Un'altra craft Altri materiali Vabbè C'è altro Un altro craft Quindi Mentre aspettiamo Che tutto Cuoco e tutto Si funzioni Già finito Perché la nostra cpu È molto potente Allora M Fluid import bus Così Ok Abbiamo l'auto craft Abbiamo l'auto craft E mi sbaglio sempre Devo Terminal Allora Io li metto Qua E poi c'è anche No In code pattern Non ci interessa Vabbè Facciamolo qui Quindi Quando ci servirà Basterà andare qui Facciamo pure Allora Questo l'abbiamo fatto Facciamo anche 5 di questi Tanto ci serviranno sempre Dopo ci andiamo Veniamo a fare anche L'auto craft Dell'export Del fluid export Bus Allora Allora Abbiamo detto Noi ci servirà Questo qui Per importare Nell'ME Ce lo craftiamo subito Uno va bene Dei cavetti Ce l'abbiamo E perché Quello che ho intenzione Di fare adesso È che Visto che abbiamo messo Il grinder qui Perché Ci serve Tutta questa Mob essence Allora Prima cosa Mi servirà Il cavetto Di questo Perché se io tolgo Questo qui Lo metto qua Per farlo diritto Mi serve Manca un cavetto E non vorrei Che ce l'ha Tutti nell'inventare Infinity Perché è lui Che sta facendo Il progetto Qui Sperando che ce ne sia Qualcun altro Ender Sì Ce ne sono Ci sono Allora Lasciati qui dentro Allora Questo lo butto Che non mi serve Ho fatto questa robaccia Qui Buttiamo via tutto Anche le frecce L'arco Va Non fa niente Vola Ok Ho visto Uno scheletro Morire molto Malamente Allora Facciamo questo progetto Qui Allora Togliamo questo Una cosa Anche questo E anche questo Perché Voglio Che Tutto Passi Così Ok L'abbiamo Ricollegato Adesso Noi qui Ci mettiamo Un M Fluid Import Bus Bam Che va Direttamente Senza Filtro Perché non ci interessa Deve essere collegato All' M Allora Premiamo Shift Sbarra Che per rimanere in aria Anche se adesso Non ci serve Vediamo se si collega Collegato Aspettiamo che l'M Prenda il canale L'ha preso Io qua lo vedo Io qua lo vedo il canale Qua no Adesso si Si Funziona Sta prendendo tutta la mob Essence Vai 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 succhio tutto Non vorrei che questi tank Però qui sopra Non faccia prendere Tutta la mob Essence Anche qui sotto E infatti Sale e scende Perché Il grinder Che era pieno Giusto adesso Sta buttando la mob Essence fuori E non prende più Eh questi tank Ha questa particolarità È come Diciamo Il Prendono Fanno prendere solo Dalla parte più bassa In che senso Se tu prendi qui Prendi da questa parte Fino a sopra Se tu giustamente Lo metti qua Prende solo Questa zona qui Se scende È come se l'acqua Non arriva Giusto È come un rubinetto Ma È molto Figa Sta cosa È molto più realistica Diciamo Quindi Io Questo fluid Dovrei Magari Metterlo Qua Questo è quello Più basso Però io potrei fare Anche così Questo lo rompo E me lo riprendo Qua magari Per non far uscire Quei costi piccoli Metto una slab E Qui Vado a mettere questo Che si congiunge E qua vado a mettere Il nostro fluid Import bus Questo cavolo Rimango Chiedendo Qui Il fluid Lo metto Qui Sul lato Magari E va Verso Sopra Ah Qua Devo premere Shift Così Voglio fare Una cosa Molto Lineare Allora Io tolgo Questi cavi Premere Shift Sì Ok Mi piace Essere Lineare Così Ottimo Questa zona Qui Che è fatta In questo modo Poi non ti permette Di girare Vabbè Non ci interessa Girare Ok Presi il canale Si sta ispirando Tutta la mob essence Da qui sotto Giustamente La cosa ideale Sai quale sarebbe Di far scendere Questi tank Magari scendere Fino a giù E poi mettere Un M import Dei liquidi Da sotto Che aspira Che può andare Potremmo fare Anche così Volendo Magari Potremmo anche Aspirare Questo Questo Liquido Per L'esperienza Adesso Possiamo Usare anche I liquidi Con l'ME Ottimo Quindi Ragazzi Direi che Per questo episodio È tutto Si è rotto Appena Si è appena Rotto Un martello Io vi ringrazio Per la visione Mi invito Come sempre Ad iscrivervi al canale A lasciare un bel Mi piace Un commento Un qualche consiglio Qualche progetto Che volete Che noi facciamo Abbiamo Perché Abbiamo riempito A molto Però E adesso Ci serve Il terminale Per i liquidi Bene Questo lo faremo Nel prossimo video Quindi ragazzi Io vi ringrazio Di nuovo Da Zer Che è tutto Ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi